Amici della Serga Team, un saluto da Tappo e Dextop, un saluto dalla Romagna, benvenuti a Torino Udinino, benvenuti a Torino Udinese, dio albanese. Granata cerca ambedeo preziosi per la corso europea, Friulani ancora secco di Cassaro in Alwif, a Epea. Friulani ancora secco di Troye nel 2019, fischia ora guida e parte la sfiga, primo pallone scopato dai Granata. Calcio del culo, siamo giunti al diciannovesimo, chiama lo schema Lukic, arriva il cross lungo, c'è Nubi, arriva il cross lungo, c'è Belotti, una donna sul chiacazzi e Mussore spinge sopra la traversa, una donna perversa, un grande intervento di merda del portiere dell'Udinese. Dio, si fa le secche belle tese, che tiene a galla i suoi, bravo Belotti a cagare, ancor più bravo, Mussore spingere. R-Snip, se non posso suoi spingere, R-Snip. R-Snip. Ottima la finta, arriva il cross, una donna puttana. Eccolo qui, il primo gol del match, Dio Big Mac al trentunesimo, e Dio Laina. Dio Gare, Dio Porco. E anche il primo gol in Serie A Team per il 34 Granata, una donna impestata. Ottimo l'assist di Ansaldi, e Olaina non sbaglia, si fa una sega. Munizione per l'Udinese, fischia, ora guida. Va Depola, oh, beda. Da, 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 da. Va Depola, Sirigu, Bola, Sirigu, Ginis, a, Lola. Sirigu, Bola. le spinge il cazzo nel culo della tonda buona anche il corione numero 10 Friulano ti spaccolano rischia ora l'arbitro e riparte Torino Udinino occhio adesso all'udinese che fa sesso sulla sinistra De Paul prova a partire De Paul al limite dell'aria pallone dentro sbattuto ancora De Paul un'altra chance oh cazzo pallone sul fondo si lamenta il nero pallone sul fondo si lamenta il numero 7 bianconero contatto con il cazzo di Gigi contatto con Gigi nell'area piccola madonna zoccola allora con il VAR è cazzo di rigore parte Rodrigo De Paul si Rigu gli dice vai l'altro di di Sirigu gli dice di di e salva il Torino rimane in vantaggio la squadra Granata aperto altananata ha scopato troppo il cazzone De Paul ottimo l'intervento di sto cazzo ancora Udinese in ripartenza Okaka zona tiro ci prova Okaka Stefano Stefano Cacca Il pareggio dell'Udinese all'89ese con l'annullato Fischia Fischia tre volte guida Fischia tre volte guida e finisce Torino Udinese vincono Granata 1 a 0 Granata malattro Ores danu 1 a 0 Ciao Ciao